Bella raga, qua anex e bentornati sul canale oggi siamo che siamo i miei nuovi ragazzi su Clash Royale E stavo pensando, visto che oggi c'è un caldo boia, si suda come delle capre, già che divento rosso come un pomodorco Ho detto, sì, non fate domande, comunque ragazzi, tanto vale diventarlo anche di vergogna Quindi quest'oggi faremo un ignorantissimo episodio dell'imbarazzante test opening E devo in primis ringraziare Elia che mi ha fornito un account, o meglio il suo stracolmo di bauli Quindi quest'oggi la possibilità che io devo cantare, o meglio fare stecchi allucinanti, è veramente altissima Come al solito per ogni imbarazzante test opening vi ricordo, ogni 2.000 mi piace aggiungeranno una sfida E ci saranno maggiori occasioni per farmi cantare cose veramente orribili Ma ragazzi allora, come al solito non vi spiego le regole perché ormai le avete già a memoria Vi ricordo solo di lasciarmi sotto un commento con la vostra sfida che potrebbe essere presa per un prossimo episodio E adesso andiamo subito a vedere le malsanissime canzoni, o meglio cose da cantare che mi avete proposto nello scorso episodio La prima sfida ce la fa Giuseppe e ci invita a cantare nel caso che dovessimo trovare Antonino Cannavaciuolo Ovvero il boia, fenomeno di Fabri Fibra Mentre la seconda ce la fa Ivano e ci invita a cantare nel caso che dovessimo trovare gli scheletrini da uno Ovvero i tartarozzi Happy Days di Gali La prossima ragazzi, scusate che ce l'ho qua, ok, ce la fa Lady Queen e ci invita a cantare nel caso che dovessimo trovare I razzistacci, gli arcieri, i parassiti, insomma, quei cosi che costano tre che tirano le frecce da per terra Dovremmo cantare è la casa di Totorino Perché sì, perché ci sono anche le canzoni più infime Ma poi prendiamo anche quelle più infime, mamma mia La prossima ce la fa Mauro e ci invita a cantare nel caso che dovessimo trovare il Cavaliero Ovvero l'uomo patatina E torno a cantare la sigla di Peppa Pig Ogni santa volta me la riproponete ragazzi E fa anche dei like, è quello il problema La prossima sfida ce la fa Riccardo e ci invita a cantare nel caso che dovessimo trovare Le rap, ovvero gli sgherri da tre Believer degli Imagine Dragons Vai Ragazzi, chiudiamo subito e andiamo a spaghetare perché mi stava già venendo male solamente a leggerle L'ultima invece ce la fa Alessandro E nei casi che dovessimo trovare la polietta volante E torno a cantare Sportwear della Dark Polo Gang Per chi non lo sapesse la polietta volante è la sfera infocata Ma ormai cosa ve lo dico a fare Ragazzi mi sono anche munito di microfono per fine episodio Così facciamo le cose fatte bene Comunque siamo sulla camp di Elia Ci ha preparato un sacco di bauli Pensavo avesse solo questi invece anche Torneo e sfida E quindi ragazzi, ormai facciamo una cosa Facciamo subito quello del torneo Ragazzi, togliamocelo via e poi facciamo sfida Baule del clan e questi qua davanti Ragazzi, aiuto Partiamo con questo baule del torneo Ragazzi, mi sto cagando in mano Partiamo con questo voloso Che ci riserva la bellezza di 165 Unito di oro Seconda cartozza Ok, ragazzi, gli spiritali ci stanno Prossima, ok La donna polenta Chiudendo così Ragazzi, ormai, il primo baule è andato Regà, passiamo a quella della sfida Che finché siamo in focca di culo Vediamo di dribblarle tutte Secondo baule della sfida sono 8 carte Quindi spiegiamo bene Demonosco il baule Che ci riserva appunto la bellezza di 310 Unito di oro Segue la cartozza Un ameciano carnuccia Chiudendo con Ok, ragazzi, ormai, sto spiegando Va bene, ragazzi Va bene, va bene, va bene Ragazzi, baule del clan Respiro veloce E partiamo Vemono con questo baule Che ci riserva la bellezza di 1620 Unito di oro Segue la cartozza, ok Donna polenta, va benissimo Prossima cartozza L'orda di rap Ok Fanculo, il ameciano da fitness Ma, baffanculo Il lercio ci sta Dove ancora? I ameciani, ok Non trovare Ragazzi, ti godo il golem Il golem Non trovarmi Antony Non mi ha trovato Antony cannavacuolo Ragazzi, va benissimo Vieni su, Antony cannavacuolo Non salta fuori Salta fuori Un arco Ragazzi, mamma mia Schiviamo anche qua dentro le sfide Quando è uscita l'orda di rap E mi sono cagato Mano Ma, c'è, è andata Fottutamente Bene Baule maggio E vediamo di che morto Deve morire Demon con questo baule Che ci riserva la bellezza Di 85 Unito di oro Sicura cartozza Ok L'elettrostimolatore Di Ziofester Prissima, ragazzi Aiuto Va benissimo Va benissimo Va benissimo Passiamo al prossimo Dai, regà, che ci va bene Dai, regà, che forse Oggi ci va bene Secondo il baule Storaggio E spariamo qui questo, regà Spariamocelo appunto Ci riserva la bellezza Dicendo No, 93 Punta di oro Secondo la cartozza Due germozze Poi ancora Cioè, ragazzi Ma che culo bestiale abbiamo La capanna da fitness Va benissimo Chiudiamo il Baule, ragazzi L'orda di rape Va bene, ragazzi Va bene, va bene, va bene Va bene Comincio davvero Sei di sei di sei di tupi Sulla mia salvezza canora Temolo su questo baule Che ci riserva appunto 5, 7, 8 Punito di oro Secondo la cartozza Abbiamo Due volte le gemme Prossima cartozza Ungolendo di ghiaccio Voi ancora Va fa culo, ragazzi La solumeria ci sta Prossima Gli spiedini Ok Chiudiamo il baule Va fa culo Ragazzi Come sta andando Ragazzi Non ci credo Ci sta andando Letteralmente di culo O meglio Personalmente A voi Non so se vi piaccia Sentiremi Ugolare Ma ragazzi Va bene Adesso togliamoci subito Via l'epico E dopo di che avremo Gigante e idiomatici Temolo con l'epico Che ci riserva appunto La bellezza di Una strega E' vero che non c'è l'oro E' vero che non c'è l'oro Ragazzi un pallone Prossima Che Sei volte La simetal Chiudiamo il baule Godo Male Ragazzi Il pecca Ragazzi Niente Antony Niente Antony E' lo cannavacuolo Quindi veramente Veramente Uno spettacolo Ragazzi Non so cosa sta succedendo Oggi abbiamo Un culo paranormale Ok Ragazzi Adesso abbiamo Il baule gigante Vediamo di sculare Che qua dentro Ragazzi So che fortunatamente Quest'oggi può andarci Per il verso giusto Partiamo con il baule gigante Che ci riserva appunto La bellezza di 800 Urte di oro Segura No Ti prego Ti prego Non il cestino Ragazzi Il cestino di raba Non ci credo Questa è la canzone Ragazzi Il cestino era la canzone Non era l'order Era il cestino Devo No ragazzi Devo cantare Believer Ragazzi Devo cantare Believer Degli Imagine Dragons Se ci tenete Le vostre membra Orecchiali Chiudete questo video Ragazzi Ma perché Ma perché Mi do la zappa Sui piedi Due secondi fa Ho detto Sanità canore Ma ci va di culo Ragazzi Subito Ma l'ho presa subito Ma vaffanculo Ragazzi Sta a vedere che ne prende un'altra Sta a vedere che ne prende un'altra No ragazzi C'è su dono dio No Chiudiamo il baule Vaffanculo Ricapitoliamo Maule gigante del merda Ragazzi Lo sapevo E' impossibile Che io riesca A finire un video Senza dover cantare Ragazzi Non è possibile Che un video del genere Finisca mai così Ma siamo ai magici Tanto ormai La dignità me la sono già Sperginata Quindi se ne fotte E' bello su questo Che ci riserva appunto 1100 unità di oro Ma si Prossima cartozza 7 volte elettro stimolatore Prossima ancora Ragazzi Va bene 8 spiritelli di fuoco Verità di star Prossima cartozza 17 Namecianga fitness Prossima ancora 18 volte il cesso Ragazzi Va benissimo Va benissimo Va benissimo No No ragazzi Vi prego Ragazzi vi giuro Ragazzi non ci credo Un'altra Ragazzi ne ho beccato un'altra Ne ho beccato un'altra Le scherette Ragazzi Se io ve l'ho Di sovimpressione Non lo so neanche a dire In quell'altra c'era il falsetto In questo Le ho fallo nullato Nel ritornello Voletevi bene Chiudete questo video adesso Tartarozzi de merda Faffanculo Ragazzi Se trovavo qua dentro Un'altra carta Vi giuro che sproccavo di brutto Vi giuro che sproccavo Ok Va bene Ragazzi 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 Tu cattagani Ma perché Ma perché Pidese ragazzi Ma che non diventano giorni felici Diventano giorni de merda Proprio piove l'etame E' bello che ragazzi Non è finito Ne abbiamo ancora uno Ragazzi Ne abbiamo ancora uno Vi giuro sto male Apriamo quest'ultimo Paule E finiamola Ragazzi Finiamola 1100 Unita di oro Segue la cartazza Vaffanculo De la riete Prossima ancora Vedi quattro volte il lercio Dai ancora Vaffanculo Cinque volte il brodo Prossima ancora I barba scabbia Va bene Prossima carta Ragazzi Aiuto Lo grader Va bene Ragazzi Lo grader Va bene Successivamente Due volte La furia Ovvero la purga Chiudendo Con Ok Ragazzi Niente cannavacciola Ragazzi Niente Antonino Va bene Va bene Va bene Ricapitoliamo E ragazzi Chiudiamo Questo spaghettamento È impossibile Che io finisca un episodio Senza che mi dovi cantare qualcosa E ragazzi Io adesso Adesso è arrivato Il momento peggiore Di tutto lo spaghettamento Ovvero Voi dovete assistere Le medote canore Dopo 20-30 minuti Che sto urlando Come un idiota Già da adesso Vi invito subito Se volete Ad iscrivervi al canale A guardare la pagina Di facebook e instagram Mi raccomando Che la trovate in descrizione Per i commenti Come al solito Mi raccomando Subiteci su instagram Alle 19 Troverete un video di plane E quindi Adesso Possiamo partire Interamente con lo schifo Ovvero la mia voce Sulle canzoni E ragazzi Se sapete già come funziona Chiudete questo video Se non lo sapete Ha maggior ragione Che stai chiudendo Tanto che ve lo dico a fare Che ve lo dico C'è gente che avrà schifato Alla fine Solo per sentirmi Ugolare Pain I let the bullets fly Don't let them rain My love My love Don't let Don't let Make me a You make me a Believer Believer Non mi costringete A farne un altro pezzo Che vi sputo In un occhio Facciamo subito Gale ragazzi Chiudiamo sto video Che devo andare a mettere Un sacchetto di pane in testa Fino a domani Non lo levo Io non vado a dormire Prima delle tre Poi mi sveglio e mi chiedo Il sole dove è E non vengo alla tua festa No non è un grand camp Tanto non mi vanno entrare Alla ragazza Up 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 Prossimo episodio, dove non mi piace ogni sfida, altrimenti, no. positivity Sangre M16 Vai a matar a todo el que se cruce, como lo veis.